Botta e risposta al vetriolo tra l'Italia dei Valori e l'assessore regionale ai trasporti Luigi Velardi. Antonio Di Pietro, il gruppo consigliare regionale del suo partito, aveva puntato il dito contro il governo regionale sulla gara in corso per l'affidamento del servizio di trasporto extraurbano su gomma al gestore unico. È una gara falsata che favorisce un'azienda a discapito di altre, aveva tornato l'ex ministro preannunciando interrogazioni parlamentari e regionali con annesso esposto alla procura della Repubblica. Non si è fatta attendere la replica altrettanto dura dell'assessore Luigi Velardi. È un'azione mirata a buttare fango e a rinviare sine di l'espletamento della gara che finora è stata sollecitata da tutti e condivisa dai sindacati, ha dichiarato Velardi, sottolineando che la procedura passata sotto i riflettori dell'autorità di sorveglianza sui contratti pubblici e dell'autorità garante della concorrenza è regolare. Ieri sera sono rimasto esterrefatto di fronte a dichiarazioni che a mio modo di vedere sono al limite del codice penale. Ma soprattutto la mia amarezza riguarda un aspetto, la infondatezza degli argomenti. Il fatto che si chiedano ancora mesi di proroga dopo 11 mesi messi a disposizione a tutti per poter valutare il bando la dice lunga sulla pretestuosità della richiesta. Velardi ad ombra poi un sospetto sul Di Pietro. Ma Di Pietro queste informazioni dove le ha assunte? Ed ecco anche il sospetto di un'azione che trova alle spalle, l'azione di Di Pietro, trova alle spalle dei suggeritori i quali hanno un unico obiettivo, come noi stiamo registrando da quattro anni a questa parte, di non fare la gara. Se noi riceveremo da questa azione un rinvio, un ritardo della gara che non ci sarà più a dicembre, io lo dico oggi a questo microfono, noi saremo costretti ad alzare le tariffe del trasporto. Questo sistema del trasporto la Regione non lo può reggere più, non solo, ma probabilmente dovremo tagliare anche altri chilometri. Quindi ancora una volta queste esterne azioni vanno a danno della popolazione molisana. Dopo aver annunciato possibili querele, l'assessore fa una domanda ad Antonio Di Pietro. Qual è l'attività e l'azione di Di Pietro? Di essere ancora giudice sine ufficio? O è un'azione politica che mira, come al solito, a demolire il sistema di governo regionale?